Avvicinatevi pure da questa parte per assistere allo spettacolo, avvicinatevi pure da questa parte, abbiamo inizio all'emozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ok, ci siamo tutto pronto di sopra, allora diamo inizio a questo fantastico spettacolo, avvicinatevi pure da questa parte ragazzi, venite a vedere come funziona questo nuovo divertimento. Accendiamo i motori, prepariamo la scuola ad un'altezza di sicurezza, eccola che sale, e adesso attendiamo che la fionda sia carica al massimo. Attendiamo che gli anastici abbiano raggiunto la punta delle antenne, il massimo, poi li spariamo su in alto a 50 metri di altezza, 160 km orari raggiunti in un solo secondo, siete pronti lì sopra? Li sentiamo eh, c'è il microfono acceso. 3, 2, 1, hopla! Sale, sale ragazzi, viene giù in caduta libera, a te sei giù, gira sale, scende, fruta! incredibile, emozionante, emozionante ragazzi, il massimo! Tutto ok là sopra, tutto bene? Spettacolo! Alla cassa ragazzi, da non perdere, da non perdere! Da un metro e quaranta di altezza, tutti possono salire, anche le mamme e i papà, tutti quanti! Molto bene, mi dispiace per la bella vista, è arrivato il momento di rientrare, caliamo le funi, arrivano, arrivano! Avanzi, avanzi, qui con noi, si viaggia al massimo, emozioni mai provate! Alla fionda! L'arrivo! Complimenti, e complimenti, davvero coraggiosi ragazzi! Dai, adesso tocca le mogli, giusto? Tocca le signore adesso! Vai, gettatevi alla cassa ragazzi! Grazie! 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 Grazie!